ciao a tutti sono luca e oggi vi parlerò dei principi della psicologia dell'emergenza oggi voglio parlare di come la nostra mente reagisce a situazioni di emergenza la psicologia dell'emergenza ci insegna che le emergenze ci fanno entrare uno stato di allerta in cui siamo più reattivi e pronti a prendere decisioni veloci ci insegna che le nostre risposte emotive e comportamentali dipendono dalle nostre credenze esperienza e personalità inoltre ci insegna come gestire le situazioni di emergenza in modo da ridurre al minimo i danni quindi prendete nota dei principi della psicologia emergenza e prendete le misure necessarie per essere pronti in caso di emergenza quali sono le situazioni quotidiane che possono farci incorrere in un'emergenza siete certi di avere sempre gestito gli imprevisti e le criticità nel miglior modo possibile